Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buona giornata, benvenuti, oggi è giovedì 14 gennaio, siamo in diretta come tutte le mattine alle 7.20 e poi vi ricordo anche le repliche, infatti questa rassegna stampa la potrete vedere anche alle 8.15, alle 11.20 sempre di questa mattina e anche alle 12.30, quindi avrete diversi spazi per poter vedere la lettura dei quotidiani locali. Allora, apriamo subito andando a vedere i titoli del Corriere Adriatico perché questa mattina appunto si parla del fatto che probabilmente da domenica il nostro territorio diventerà arancione. Le restrizioni del nuovo decreto in vigore dal 17 lasciano poche speranze sulla prossima collocazione, marche penalizzate in modo particolare dai focolai in tre ospedali e dai ricoveri ancora purtroppo alti. Oggi però ci sarà l'incontro con il governo e quindi verrà definito il colore giusto. Il concorsone per operatore socio-sanitario, vedete qui questa è la Vitri Frigo Arena, 8.000 le domande arrivate per, pensate, 52 posti. Il caso rifiuti, piani in ritardo di 5 anni, Aguzzi dice basta, riscrivo tutto. Questo insomma è un articolo che trovate all'interno a cura di Andrea Taffi dove si raccontano le decisioni appunto di Aguzzi. Pesaro, lavoro, i sindacati è una bomba pronta a scoppiare, ad esplodere. I ristoratori resteranno aperti a cena, il rebus della sfida al DPCM. Poi accoglie al Metauro la risoluzione di un fatto di cronaca, appicciò le fiamme agli scuolabus fuoco per vendetta. Stroncato dal coronavirus il vescovo dal sorriso buono, il monsignor Cecchini è morto ieri a Senigallia. Ed ora la prima pagina del resto del Carlino. Qui in apertura si parla dei ristoratori, scontri sui disobbedienti. Come sapete c'è una parte di ristoratori che invece vogliono rispettare le regole. Quindi venerdì sera non apriranno i loro ristoranti così come il decreto in vigora. Invece c'è una parte di ristoratori capitanata da Umberto Carriera che venerdì sera aprirà la propria attività seguendo il proprio DPCM, quindi come ha detto Carriera nei media nazionali rispettando misure ancor più rigide rispetto a quelle del DPCM per cercare di garantire una massima sicurezza. Noi chiaramente ci saremo e andremo a vedere anche se ci saranno altre attività perché presumibilmente saranno altri i ristoranti che terranno aperto la cena questo fine settimana. Quindi noi ci saremo, andremo a fare questo reportage e poi vi informeremo sia sui social ma soprattutto nel telegiornale di lunedì alle 19.40. E poi si parla anche di Colli al Metauro, scuola bus incendiati. Abbiamo visto che è stato trovato il colpevole, è un ex dipendente. Nelle Marche arrivate i vaccini Moderna, 1.500 dosi. Un'analisi che oggi potrete trovare nel resto del Carlino. In città 1.488 decessi nel 2020, il 51% in più della media. Sono stati fatti delle analisi, analizzando appunto i dati degli ultimi tre anni sulla mortalità nel nostro territorio. Mortalità da guerra, questo è il titolo importante che sceglie il resto del Carlino. Il fenomeno, ma l'influenza che finia fatto, i malati sono 5 volte in meno, non chiaramente quelli per l'influenza. Sicuramente anche voi vi sarete accorti che gira molto di meno, ci sono molte persone che invece rispetto agli altri anni non hanno raffreddore o altri sintomi. E Ricci non molla. Tamponi a scuola facciamoli. Sta veramente lanciando un grande appello Ricci al governatore della regione Marche proprio per cercare di utilizzare i tamponi avanzati dallo screening di massa nel nostro territorio e utilizzarli per le scuole. Ma la regione non ci sta. La cantante De Stefani, addio a Norris, la prima italiana a esibirsi nelle ex Unione russa. E poi questa, le notizie di sport, alle Final 8 anche senza sapere super realizzatori, la cooperativa WL, la formula vincente. Poi anche il calcio a serie C di Sabatino. Dalfano passa alla vis, voglia di rivalsa. E allora la nostra tragedia. Due pagine veramente impattanti questa mattina nel resto del Carlino perché fanno vedere e analizzano i dati in questi ultimi anni. Mortalità in città, pensate dal 2007 al 2020. E allora qui, ad esempio nel 2007, la mortalità era di 905 persone. Guardate al 2020, 1.488. Fino al 2019 la media dei decessi annuali è stata di 983,4. L'aumento dal 2019 al 2020, vedete questa impennata sulla media degli anni precedenti, è del 51%. Questo fenomeno sicuramente sarà in tante città, purtroppo italiane, ma purtroppo del mondo, perché è un fenomeno che è stato davvero unico nel suo genere. 2020 il 51% di morti in più, covid, il prezzo pagato dalla città, 1.488 decessi, la media era 983. I dati dell'anagrafe disegnano i contorni dell'anno che ci ha cambiato la vita. Solo, tra virgolette, 281 le vittime attribuite al coronavirus, ma il conteggio è per difetto. Molte persone vittime della mancanza di assistenza e del rinvio delle visite, anche questo dice l'assessore Mengucci, intanto l'aggiornamento, ieri altri 18 morti nelle Marche e 10 erano residenti nella nostra provincia, altre 10 persone morti appunto a causa del covid nella nostra provincia, 18 in tutte le Marche. Anche qui i dati di età restano per lo più uguali a quelli degli giorni scorsi, quindi 89 anni, 91, 83, 78, 92, questo uomo di 55 è il più giovane che è morto, il resto sono tutti ultraottantenni. Come una guerra, ma andarsene così è un'altra cosa, la percezione di una disgrazia occasionale lascia il posto al timore di non avere difese da opporre. Allora qui vedete anche i numeri del mese da incubo, quadruplicati i morti di marzo 2019, Istat, Pesaro, terza in Italia per l'aumento dei decessi. Questi sono articoli appunto usciti lo scorso anno. Il 31 marzo la cerimonia ricordo, la vedete qui, che noi abbiamo trasmesso tra l'altro in diretta su Rossini TV, la cerimonia ricordo delle vittime, Ricci annunciò, dedicheremo loro un momento. Il 31 marzo il servizio dedicato alla mortalità della prima ondata, Pesaro, aveva tra i più alti aumenti percentuali. E sempre in relazione al Covid si parla anche delle attività, le attività che hanno risentito tantissimo di questa pandemia, ci sono i ristoratori, i ristoratori obbedienti contro i ristoratori disobbedienti. Allora qui vediamo Mario Di Remigio in questa foto, che è il presidente dei ristoratori, categoria in ginocchio assurdo rischiare sanzioni e provvedimenti, siamo per la legalità. Mentre in opposizione a lui c'è la conferma di carriera con Io apro, domani c'è la protesta, pioggia di adesioni ma molti sono indecisi sul da farsi. A Pesaro abbiamo già 47 adesioni tra bar e ristoranti e altri 150 ci stanno ancora pensando, ma in linea di massima condividono il nostro pensiero. Questi sono i numeri che dà Umberto Carriera, che è promotore dell'iniziativa Hashtag Io apro 1501, quindi per domani. Lui ha già incontrato diversi operatori del settore, anche qui a Pesaro abbiamo tanti ristoratori in difficoltà, che non sanno come pagare le bollette, per questo dicono basta alle chiusure e lo facciamo in tutta sicurezza, cercando appunto nelle aperture di garantire la salute dei nostri clienti. E ora si parla anche dell'influenza, perché noi siamo sempre presi a pensare al Covid, insomma tutti i sintomi di questa pandemia, ma ci siamo un po' dimenticati dell'influenza stagionare, la consueta influenza che solitamente in questo periodo poi tra l'altro è molto forte. E allora oggi viene intervistato il dottor Francesco Barchesi. I malati sono cinque volte in meno. Nell'anno del Covid sono quasi spariti i virus classici. Ecco i dati in provincia e nelle Marche, Barchesi, primario di malattie effettive, è l'effetto del distanziamento e anche della crescita dei vaccinati. Quindi queste sono le cose, tra virgolette, positive di questa situazione alquanto negativa. Per le malattie respiratorie non ve dubbio prevare il coronavirus, che la fa da padrone. Confermo che l'incidenza di tutte le sindrome influenzali, ma anche para-influenzali, è nettamente inferiore agli anni precedenti. Nel 2020 si presentava in più di cinque individui ogni mille assistiti. Oggi si attesta intorno all'uno. Quindi c'è sicuramente una differenza, anche se dobbiamo vedere cosa succederà, tra la fine di gennaio e il mese di febbraio. Il dottore Claudio Mari, titolare della farmacia San Salvatore, vendiamo molto meno, infatti, antipiretici, ma il 40% in più di ansiolitici, pensate. Quindi anche da questa dichiarazione si può assolutamente riflettere. E poi ecco la guerra di resistenza. In non solo Pfizer è arrivato il vaccino Moderna, stoccate 1.500 dosi Saltamartini, conservazione più semplice, qui di Moderna, si possono somministrare a casa il bollettino in lieve. Miglioramento sul fronte ospedaliero, infatti, dopo l'impennata di ieri con più 38 ricoveri, appare stabile la situazione dei ricoveri, che sono invariati a 667, mentre sono tante persone dimesse a 20. Per quanto riguarda Marche Nord, la terapia intensiva scende da 28 a 25. In questa pagina numero 7 del resto del Carlino, torna la sintesi del messaggio che Ricci ha mandato sui propri social. Un messaggio diretto, imponente, un messaggio che si rivolge direttamente agli amministratori e governatori della regione Marche, che dicono e soprattutto anche all'assessore alla sanità Saltamartini, che dicono e bocciano la proposta di Biancani e Vitri sui tamponi a scuola. E lui invece continua a dire che è importante, ma l'assessore regionale Saltamartini è stato molto chiaro. Carenza di risorse, necessario concentrare tutti gli sforzi sulla fase vaccinazione. Ricci comprende, ma rilancia il personale sanitario, come avviene nel Lazio, deve essere trovato. Entro fine gennaio lo screening generale sarà terminato e molti operatori torneranno disponibili, ma nel caso in cui non ci fossero, come comune, abbiamo messo a disposizione personale retribuito. Le vittime del coronavirus covid morta la cantante Norris De Stefani era stata ricoverata con problemi polmonari prima a Pesaro, poi a Urbine Fossombrone. Pensate, fu la prima italiana a esibirsi in Unione Sovietica. Il covid-19 ha ucciso Norris De Stefani, 83 anni, nota cantante pesarese, originaria di Pantano. Da circa un anno Norris aveva problemi polmonari e poco dopo Natale era stata ricoverata all'ospedale di Pesaro. Quindi De Stefani ha debuttato a 16 anni al Teatro Rossini, continua gli studi di canto con il maestro Gennari e nel 1958 entra come cantante nell'orchestra del maestro Dino Livieri. I funerali con le misure anticontagio sono fissati per domani alle ore 15 nella chiesa San Carlo di Vianitti. Altri lutti anche a Vallefoglia per Max e Sabrina. Oggi funerali di Massimo Colarizzi a Montecchio, domani l'esequie della Andruccioli a Morciola. Vallefoglia è il lutto per la morte di due persone stimate, scomparse prematuramente a causa di una malattia incurabile che non ha lasciato loro scampo. Il funerale di Massimo Colarizzi, 60 anni, titolare insieme al fratello Tiberio della cooperativa agricola La Formica, realtà storica di Vallefoglia, saranno oggi nella chiesa di Montecchio alle ore 15. Il funerale di Sabrina Andruccioli in Serafiri, 50 anni, mamma di due bimbe, sarà domani alle ore 15 nella chiesa di Morciola. I tamponi rapidi dal 16 al 21, in questo caso siamo appunto, anzi rimaniamo a Vallefoglia, qui vedete nella foto Daniela Ciaroni, che lei è medico ma è anche assessore ai servizi sociali nel comune di Vallefoglia, quindi approfittate voi cittadini di Vallefoglia che ci seguite con tanta dedizione, approfittate dei tamponi rapidi dal 16 al 21, ecco qui anche l'assessore medico invita a farli, Daniela Ciaroni, medico e assessore a Vallefoglia, proteggiamo la comunità. Due le postazioni Azure a Gradara e a Montecchio, test veloce, ricordiamolo che è gratuito. Allora, al Palazzetto dello Sport di Gradara, in via Tavuglia, dalle 8.30 alle 13, dalle 15 alle 19 potranno andare i gradaresi, i gabicesi, mentre tutti gli altri avranno il Palavitri di Montecchio in via Guidi. Come riferimento i tavugliesi potranno andare sia a Gradara che a Montecchio, giovedì 21, il servizio sarà solo al mattino. Quindi partecipate, mi raccomando. Intanto, ecco, come iniziano a Vallefoglia, così finisce lo screening a Fano. E quindi c'è un'analisi, ci sono dei dati, in realtà non tanto positivi, perché solo il 20% della popolazione ha usufruito dello screening a Fano. E infatti c'è scritto Fano non sfonda, si testa il 20%. La chiusura della campagna voluta dalla Regione fa emergere un'adesione in linea con Pesaro, con picchi fino al 27% a Cartoceto e Marotta. Seri per quanto riguarda i tamponi agli studenti, boccia ricci, no soluzioni occasionali, meglio lavorare al rientro in sicurezza. E poi si torna a parlare anche di questi bambini che sono al gelo, ora la caldaia però è ok, a settembre li trasferiamo. Aggiustato questo guasto all'asilo Seneca, con la nuova scuola di Cucurano, il disagio cesserà. Si è spenta Paola De Blasi, figlia del re dei biliardi, luto nella famiglia De Blasi a Fano. Si è spenta a 83 anni Paola De Blasi, figlia di Salvatore, l'imprenditore fanese, che con i suoi biliardi ha dato lustro mondiale a Fano. Ecco qui, Scuolabus Incendiati, è stato l'ex autista, il rogo del 20 maggio 2019 a Calcinelli, mandò in cenere 5 pulmini della ditta Re Manfredi di Foggia, lo fatto per vendetta. Quindi la confessione di questo uomo poi lo vedremo meglio nel Corriere Adriatico. Intanto torniamo ancora ai tamponi, tamponi per tutti a Tavernelle e Urciano. Si svolgerà al Bocciodromo e alla palestra comunale lo screening di massa per i comuni di Cogli al Metauro, Terre Roveresche e altri. Le date sono sempre quelle, cioè da sabato 16 fino a giovedì 21. Coinvolti anche i cittadini di Monte Felcino, Mondavio e Monteporzio. E poi a Urbino, ospedale in campo il Ministero della Difesa, Saltamartini la sanità della Marina Militare ha monitorato il presidio, Storti dice arrivato un incaricato, Gambini prudenza sui numeri. Quindi dopo aver parlato martedì di incertezza sui tempi d'arrivo dei sanitari militari richiesti per le marche, ieri pomeriggio Saltamartini ha annunciato la svolta, il personale si sta mobilitando, l'assessore regionale alla sanità ha spiegato che si partirà dalle residenze sanitarie assistenziali e dalle case di riposo, ma che sono cominciate anche le operazioni per i medici richieste proprio per l'ospedale di Urbino. Quindi buone notizie. Ora ci spostiamo a Monte Calvo in foglia, anche qui screening di massa, Monte Calvo si prepara. Nella foto, ecco qui, vedete appunto la Donatella Paganelli che ha spiegato come prenderne parte ma anche la situazione del suo territorio. Il sindaco che appunto la vedete qua lancia l'ampello, invito tutti a partecipare, i tamponi saranno effettuati da sabato 16 fino al 21. E poi i raid di piromagni a Canavaccio bruciati nella notte 8 cassonetti, incendiati l'altra notte almeno pensate 8 cassonetti a Canavaccio di Urbino. Per lo più contenenti la carta hanno dato alle fiamme quattro contenitori davanti al centro commerciale e altri quattro in alcune viattigue. Lo avevano già fatto nella notte di Capodanno ma in qualche caso ne avevano distrutto un paio. E quindi questo è quello che è successo con questo appunto a Canavaccio. E adesso invece passiamo al Corriere Adriatico e entriamo nelle pagine che ci portano direttamente alla Regione Marche e qui vediamo appunto l'ipotesi, cioè le Marche che torneranno arancioni. Oggi ci sarà il vertice con il Governo, nove Regioni rischiano la fascia intermedia con il decreto che dovrebbe entrare in vigore proprio domenica. Le novità in zona gialla aprono i musei, dubbi sull'asporto per i locali e poi favorisce gli assembramenti. Quindi c'è anche, c'è pure il dubbio sull'asporto per i locali. Intanto vediamo bene questa grafica, vedete verso il nuovo DPCM, domenica 17 entrano in vigore le nuove regole, 30 aprile data ipotizzata per la fine dell'emergenza. Le zone ancora in discussione, noi dovremmo oscillare tra la zona gialla e la zona arancione e allora vediamo quali sono le indicazioni per la zona gialla, l'RT sotto 1, altri indici ancora sospetti e poi spostamenti liberi, vietato uscire dalla Regione, aperti i negozi, ristorante, bar, pasticceria aperti fino alle 18, visite solo due persone alla volta e riaprono i musei e le scuole superiori sono in didattica a distanza. Ma se torniamo in zona arancione, l'RT 1, poi spostamenti solo nel comune, visite come la zona gialla, aperti i negozi, chiusi i locali, dai comuni fino a 5.000 abitanti ci si può spostare per un raggio di 30 km, quindi la situazione è questa. La Regione è stata penalizzata dai focolai in tre ospedali e dai ricoveri ancora alti, nessuna indiscrezione sull'indice di contagio della settimana. Pesaro è tornata sotto pressione, qui c'è l'intervista al dottore Michele Tempesta, che è primario del servizio di anestesia e rianimazione a Marche Nord per l'azienda ospedaliera di Pesaro, i ricoverati sono in crescita, questa è la sintesi di questa intervista, probabilmente andremo avanti così fino a maggio, il sistema deve reggere. Il picco della prima ondata non è più stato raggiunto per fortuna, abbiamo avuto delle settimane terrificanti davvero, però anche la seconda ondata ha comportato molti ricoveri, così da ottobre probabilmente andremo avanti fino a maggio. Nel mio reparto gli anestesisti si sono tutti vaccinati. Screening di massa, 128.000 test, 762 tamponi, questo è il risultato per lo screening a Fano. Ed ora torniamo nelle pagine di Pesaro, qui si affronta l'argomento del lavoro, questa mattina una bomba pronta a esplodere con la primavera, l'allarme dei sindacati dopo i numeri critici del centro per l'impiego, i settori in sofferenza, il legno, la metalmeccanica, il tessile, i servizi e il turismo. E allora qui nel grafico vedete ad esempio il totale dei disoccupati, nel 2018 i disoccupati erano 9.845, 145, guardate quanti sono nel 2020, 11.303, quanti sono stati disoccupati appunto nel 2020 e poi bisognerà vedere questo 2021 appena aperto. E poi i tour operator, ecco anche questi, un altro settore veramente molto in difficoltà, quattro asset per un turismo da sbloccare, si va dalla promozione delle eccellenze ai servizi di accoglienza. E' stato fatto un accordo tra Assoviaggi Confesercenti Marche e Inside Marche Live, l'associazione che oggi riunisce la stragrande maggioranza dei tour operator attivi nell'incomio del territorio regionale. Io apro, ecco qui, anche qui ripresa la notizia di hashtag Io apro 15 gennaio, rebus di adesioni sui ristoratori ribelli che sfideranno la legge. Sui canali ufficiali ne sono stati tracciati 4-5, ma carriera siamo più di 100, quindi qui c'è anche un commento di Ristori Italia, di senso speculativo, è solo fine a se stesso. Intanto qui vedete anche l'immagine del ristorante La Macelleria di Carriera con il fantoccio impiccato per protesta. Allora qui vedete appunto un uomo impiccato perché i ribelli insomma lamentano così come tutti la difficile situazione. Tra i sostenitori di Carriera c'è non solo Salvini, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, ma anche Vittorio Sgarbi che già aveva appoggiato Carriera a fine 2020. Sanzioni e salute, i clienti non devono mai rischiare, Confcommercio per diremigio, rivendicazioni solo nel solco della legalità. La decisione di Marina Giacomel, ultimi giorni ancora aperti, preferiamo fermarci per poter rinnovare. A Qualagna, il ristorante La Ginestra, insomma uno dei più famosi del territorio, a lungo ha tentennato Marina Giacomel, spalla del padre Nino, Nico Giacomel, tra i primi chef ad osare cucinare il tartufo in Aqualagna nel suo feudo. Non è facile prendere le decisioni di interrompere il ritmo di 50 anni di cucina d'autore che ogni mese attira gourmet e viaggiatori golosi. Eppure per la prima volta il ristorante La Ginestra, altare del tartufo tutto l'anno, in tutte le sue declinazioni, non esclude di chiudere le sue porte alcune settimane. Queste purtroppo sono le conseguenze di questo periodo. La prevenzione, vaccinazioni dati da incrociare per il tracciamento dei sanitari, circa 60 dipendenti di studi medici hanno dato l'adesione alla campagna. Insomma, voi sapete che si sta portando avanti questa campagna vaccinale proprio per i medici e i professionisti del territorio che si occupano, che lavorano appunto nel reparto sanità, attesa per la seconda chiamata vaccinale anticovidi, domenica 17 gennaio, al presidio di Muraglia per medici di medicina generale e medici liberi professionisti del territorio. Per ora aderito alla vaccinazione il 70% dei 360 medici di medicina generale e suddivisi nei tre distretti di Pesaro, Fano e Urbino. Quindi il 70% dei medici ha aderito. Sanità arriva ai super concorsone, quasi 8 mila domande per 52 posti, anche Marche Nord ricerca, operatori socio-sanitari. Le prove saranno alla Vitri Frigo il 2 e il 3 febbraio prossimo. Intanto c'è anche una notizia di un furto, di un tentato furto. È stato sventato, per fortuna il colpo a non solo sport. Tentato furto di capi di abbigliamento al negozio non solo sport di Via dei Pioppi. Sventato perché le commesse si sono accorte del tentativo e i tre si sono subito allontanati. È successo durante l'orario di apertura. Hanno tentato di distrarre le commesse per portare via le felpe, ma non ci sono riusciti. Celletta, trasferire non basta. Braccio di ferro, Lega, 5 Stelle. L'opposizione chiede di stralciare l'edificabilità. Lugli, bene costruire sul costruito. Stiamo parlando della variante della Celletta. L'edificazione va eliminata, non spostata, attacca la Lega. È un passo in avanti per la tutela ambientale. Si costruisce sul costruito. Sostengono i 5 Stelle. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Lugli, afferma che l'emergenza che stiamo vivendo non deve farci perdere di vista l'importanza del rispetto del territorio. E intanto una comunicazione, perché è iniziata la rimozione dei detriti lungo il Foglia, il consigliere regionale Baiocchi ringrazia per il sollecito intervento. Ed ora andiamo ancora avanti. Ecco qui. Ci spostiamo a Sant'Angelo in Vado perché si parla di eccellenze. Infatti qui c'è un progetto molto importante riguardante la Domus del Mito. Un progetto per la rinascita della città romana. È stato presentato il piano di lavori per gli interventi finanziati dal MIBACT con 1,2 milioni di euro. Questo sito in questo si distingue da tante altre aree archeologiche perché c'è archeologiche perché c'è dello spazio a disposizione si trova incastonato in un contesto davvero abitato. Il che ne fa un vero aggregatore di interessi diffusi per costruire il brand e l'offerta intorno al polo vanno coinvolti enti associazionismo attori dell'economia reale per suscitare idee e concretizzare insieme dei progetti. Intanto a Vallefoglia è stato attivato questo servizio un servizio attraverso il quale si può chiamare direttamente il comune attraverso il cellulare si chiama piattaforma per l'applicazione io servizi del comune direttamente online grazie a una nuova piattaforma. Nell'ultima seduta di giunta si è deciso di aderire alla piattaforma per l'accesso telematico ai servizi. Quindi il progetto è uno degli strumenti predisposti per garantire una cittadinanza digitale diffusa promosse dal governo italiano. La pandemia ospedale di Urbino in affanno ma il lanciarini resta un tabù pazienti covid il presidente del comitato per la riapertura ripropone l'ala dismessa ma che fine hanno fatto i 40 posti del San Salvatore Vitri ripropone il quesito che rivolge a Saltamartini vediamo se avrà una risposta in questo caso. E poi a Fano è stata una giornata nera sulle strade ci sono stati due incidenti e cinque feriti grave una donna investita da un furgone un tamponamento a tre in ospedale anche un bimbo quindi mercoledì nero sulle strade di Fano in una manciata di ore due drammatici incidenti il primo è stato una paurosa carambola nella tarda mattinata di ieri sulla statale adriatica a Gimarra e si è concluso con tanta paura e lievi ferite per quattro persone mentre il secondo ha avuto conseguenze assai più gravi una donna di 41 anni che è stata investita da un furgone Peugeot mentre attraversava a piedi via Roma all'altezza del quartiere Fano 2 intorno alle 17.40 quindi daremo poi racconto delle condizioni della donna speriamo che tutto vada bene allora anche qui riguardiamo un attimo il triage a Fano che chiude lo screening 17.703 tamponi testati e 129 sono risultati positivi e sempre a Fano chiesa in lutto il covid si porta via al vescovo emerito Mario Cecchini si è spento all'opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia a pochi giorni dal suo 88esimo compleanno e anche qui vediamo l'indagine a Cogli al Metauro scuola bus distrutti dalle fiamme è stato identificato l'autore dell'incendio questo appunto dopo un anno e mezzo circa di meticolose non facili indagini è stato identificato dai carabinieri l'autore dell'incendio doloso che aveva distrutto la notte del 20 maggio 2019 nel comune di Cogli al Metauro sei scuola bus danneggiato gravemente i restanti sette utilizzati anche dal limitrofo comune di Cartoceto scrive Roberto Giungi appunto si tratta di un individuo di mezza età che ancora prima dell'avviso di conclusione delle indagini emesso dall'autorità giudiziaria ha ritenuto di avanzare richieste di definizione del procedimento per il ritiro del patteggiamento l'uomo agito per rancore personale e per vendetta combinando appunto un bel guaio la pandemia covid in crescita in Valcesano chiuso lo screening di massa ora tocca agli altri comuni l'agenda dei test rapidi per Orciano Mondavio e Pergola e poi un accordo per quanto riguarda il carnevale di Fano Paolo e Francesca saranno in questa prossima edizione protagonisti a Fano nel nome dei Malatesta Gradara ha commissionato un'opera in cartapesta per l'anno dedicato a Dante dopo quella di Pesaro appunto in cui è stato realizzato il bellissimo caro di Rossini in occasione del centocinquantesimo anno della scomparsa appunto del compositore ora protagonista sarà il comune di Gradara ed ora possiamo passare allo sport perché ci sono notizie che riguardano il calcio in Serie C nel nostro territorio di Sabatino ok e alla Vispesaro c'è anche Diaie due rinforzi arrivati per i Biancorossi oggi si può anche chiudere per Ferrari e Tassi il difensore arriva a sorpresa dal Fano il portiere invece arriva dall'Ascoli con questi arrivi la società vuole imboccare la strada della salvezza però a Fano ora c'è un posto libero perché la partenza di Sabatino per Pesaro e quella probabile di Baldini per Cittadella danno libertà di manovra per Gentile manca ancora l'ufficialità poi in Granata dovrebbero arrivare almeno un difensore e una punta il nome nuovo per l'attacco spunta Alvaro Montero spagnolo del Monopoli che finora non ha segnato mai ma l'anno scorso a Bisceglie aveva fatto bene mentre il mercato si scalda ed obbligo però pensare al match di sabato con il Gubbio e poi le notizie del basket oggi c'è un'intervista di Camilla Cataldo io il covid è il mio basket intervista a Rock Stipcevic racconta l'attuale tecnico che lo vedete qui appunto nell'immagine i suoi ricordi pesaresi il mio cuore è con voi e qui vedete appunto Stipcevic che ha giocato a lungo in Italia sono stato otto anni in Italia amerei fare qualcosa di bello nel vostro paese vediamo anche le altre pagine dedicate allo sport e allora ecco qui la vis prende di sabatino questa è la notizia ho tanta voglia di rivalsa il difensore era stato accantonato dal Fano per me sono stati mesi duri il portiere di Aie ha firmato ieri il regista Tassi lo farò oggi Ferrani vicino e poi ancora ecco qui Fano Gentile c'è Baldini via ora arriva Montero da ieri il centrocampista che ha voluto lasciare il Foggia si allena con i Granata l'ala verso il Cittadella in B piace l'attaccante del Monopoli e poi anche oggi c'è una notizia riguardante il calcio a 5 tra pochissimo vi daremo anche comunicazione della partita che trasmetteremo in diretta ecco qui Cuzzolino è nella top 10 l'attaccante dell'Ital Service tra i 10 in corsa per il miglior giocatore del mondo e sì questo è stato davvero un grosso colpo che ha fatto Lorenzo Pizza per la squadra perché ha preso un giocatore formidabile e intanto il basket la VL ha trovato la formula vincente accesso alle Final 8 nessun realizzatore assoluto ma tanti che contribuiscono alla causa è un Filippovic che viaggia alla grande e a proposito di VL vi ricordo questo appuntamento che torna dopo la pausa delle vacanze natalizie con Insieme a Canestro questa sera le ore 21.15 replica le 22.30 non perdetevi questo nostro approfondimento anzi l'approfondimento della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro programma voluto appunto dalla società e che noi prontamente vi mostriamo tutti giovedì questa sera c'è Tyler Kane il pivò della VL Amos Benevelli che è ex giocatore VL e poi Marco Bedinotti che è un giornalista e opinionista molto esperto appunto di basket e poi ancora andiamo avanti perché ci sono tante cose da ricordarvi a proposito di sport ecco lo sport da fare a casa non perdetevelo cercate di rimanere in forma per quanto si può visto che le palestre sono chiuse Fix Fit è l'allenamento che vi proponiamo noi con Katia e Tiago da lunedì al venerdì alle 9.30 quindi tra un po' alle 9.30 e anche una lezione il pomeriggio alle 17.30 e poi vi ricordiamo che domani torna il Vallefoglia Magazine anche questo riprende un nostro cavallo di battaglia televisivo dopo la pausa che c'è stata appunto per le vacanze e ritorna il Vallefoglia Magazine tante notizie tantissime tantissime informazioni per tutto il territorio del grandissimo di Vallefoglia il venerdì alle 19 replica alle 23 e poi vedete anche il sabato domenica e lunedì e martedì con le varie repliche per rivedere questa edizione di venerdì e poi ecco qui ancora sport perché sabato vi faremo vedere in diretta la partita dell'Ital Service alle ore 19 collegatevi perché c'è la ACCS Futsal Club contro Italservice Pesaro per i sedicesimi Futsal di Champions League una partita importantissima proprio in diretta da Parigi quindi insomma la squadra debutterà andrà a Parigi e noi la vedremo comodamente seduti sul divano alle ore 19 in diretta sul canale 633 e poi vi ricordiamo il nostro telegiornale questa sera 19.40 20.40 e 23.30 ma ricordatevi anche le repliche del giorno del giorno seguente come ad esempio quella della mattina alle 6.45 ad esempio se vi svegliate molto presto prima della rassegna stampa ricordatevi che c'è la replica del telegiornale e allora ci vediamo questa sera nel telegiornale vi aspetto con tutte le notizie fresche di giornata per il nostro territorio grazie buon lavoro e buona giornata a tutti buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me buongiorno al latte e al caffè buongiorno a chi non c'è è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te a chi non c'è buongiorno a chi non c'è